Ciao a tutti gli amici di Gossip News Sicuramente è una grande gioia, poi ora ho iniziato a viaggiare, mentre prima magari mi trovo in un semplice paesino oggi mi ritrovo ad essere qualcuno e rappresentare un'immagine veramente importante come oggi qui ci troviamo e sto bussando un'ambito da sposi Ma l'essere qui è preludio a un matrimonio? Sono single però lo spero perché comunque mi piacerebbe trovare quel sentimento che ti fa volare e ti fa venire con la voglia di realizzare questo altro sogno, ovvero di conciliare un bel matrimonio E ti si sono già aperte delle prospettive? Per il momento voglio godermi al massimo di Sitalia, divertirmi perché io la posso soltanto una volta Poi quello che avverrà ci saranno mille occasioni, io dovrò soltanto scegliere